Musica Cari telespettatori, benvenuti a Occhio al Voto, il programma di informazione politica locale di Fanu TV. Da oggi e per i prossimi lunedì sera cercheremo di accompagnarvi alle urne in modo un po' più consapevole ospitando i vari candidati alle elezioni amministrative 2024, elezioni che si terranno l'8 e 9 giugno. Questa sera sono con noi i quattro attuali assessori del Comune di Fano che domenica 7 aprile si sfideranno alle primarie del centro-sinistra. In ordine alfabetico per cognome sono Cristian Fanesi del Partito Democratico, buonasera. Cora Fattori di Più Europa, lista Civica F, buonasera. Etiel Lucarelli di Noi Civiche Fano, buonasera Lucarelli. Buonasera a tutti. E Samuele Mascarin di Fano in Comune. In queste puntate non sarò sola ma con alcuni colleghi che ci hanno dato la loro disponibilità. Do il benvenuto a Massimo Foghetti, giornalista storico del Corriere Adriatico e collaboratore di Fano TV. Benvenuto Massimo e grazie. Grazie a voi. Iniziamo dunque questa puntata dallo scenario attuale. Sono scesi in campo il centrodestra che ha lanciato la candidatura del consigliere regionale e comunale della Lega, Luca Serfilippi. La coalizione per Fano è composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Civici Marche e Partito Repubblicano Italiano. La coalizione dei progressisti per Fano 2050 è invece composta da La Fano dei Quartieri, Partito Socialista Italiano, La Fano che vogliamo, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Bene Comune, Volt, Ribella e Repubblicani Europei. Nove liste che appoggiano la candidatura di Stefano Marchegiani. Era sceso in campo anche l'ex direttore generale del Comune di Fano, Giuseppe De Leo, esponente di area civica. Il 20 marzo però ha deciso di fare un passo indietro e ritirare la sua candidatura al sindaco di Fano. Sono prevalsi, precisava la nota a firma del suo movimento civico, forti interessi di partito e personalismi che hanno creato evidenti spaccature e che rischiano di allontanare sempre di più i cittadini dall'andare a votare. Infine ci sono i quattro candidati qui presenti che hanno raccolto le firme, ne servivano almeno 100 per partecipare a questa competizione pre-elettorale in seno al centro-sinistra. E allora iniziamo a conoscerli. Partiamo da Cristian Fanesi, 48 anni, si è laureato in ingegneria nel 2003, sposato con Monica, con la quale ha avuto due figlie, Vittoria e Veronica. È un grande appassionato di tennis, infatti per diversi anni ha svolto ruoli in associazioni di volontariato e sportive, ma ora, ha rivelato, rimane del tempo solo per la famiglia e per qualche partita di tennis. Dal 2004 ha iniziato a lavorare presso la società Snam Progetti, oggi Saip MSPA, dove ricopre il ruolo di responsabile nel settore dell'impiantistica. Poi negli anni in cui il PD è stato all'opposizione della giunta a Guzzi, Fanesi è stato eletto segretario del Partito Democratico di Fano. Nel 2015 è diventato capogruppo e nel novembre dello stesso anno è stato chiamato dal sindaco Seri a coprire il ruolo di assessore ai lavori pubblici, protezione civile e viabilità. Dal 2019 invece è vice sindaco e assessore all'urbanistica, grande viabilità, protezione civile, demanio marittimo e realizzazione e manutenzione di impianti sportivi. Cora Fattori, classe 1981, è nata a Fano, si è laureata in Ingegneria Edile e Architettura all'Università Politecnica delle Marche. Ha fatto un corso di specializzazione per diventare tecnico competente in acustica e un corso tecnico per progettista antincendio. Grazie alla tesi di laurea si è specializzata in efficientamento energetico degli edifici, lavorando in questo contesto come ingegnere. È un'esperienza che ha portato dentro l'amministrazione comunale. Viene da dieci anni di scautismo che le hanno regalato praticità e senso di squadra e le hanno fatto capire l'importanza nel difendere il più piccolo e il più indifeso. Tanti invece i lavori fatti fin dall'adolescenza, hostess, facchina, segretaria, aiuto parrucchiera, portapizza, animatrice per bambini. La mia famiglia, raccontato Cora, mi ha sempre insegnato il valore del lavoro che in umbilità l'uomo e la donna. Nel 2014 ha aperto il primo co-working a Fano, uno spazio di lavoro condiviso in cui sono state organizzate negli anni tante iniziative. Dal 2016 al 2018 ha organizzato una manifestazione Aria, la Casa Consapevole, in cui tante imprese del territorio che lavorano nel mondo della casa e dell'edilizia potevano farsi conoscere. Nel 2019 è stata eletta consigliere comunale e membro di Più Europa, di cui è coordinatrice regionale dal 2024. A fine 2022 ha ricevuto la delega di Assessore a Cultura, Ambiente e Digitale. Un'esperienza breve, affermato, ma che ha visto da subito una grande operatività. Etienne Lucarelli, marito di Silvia, babbo di un ragazzo di 19 anni e di una piccola bellezza di 4. Direttore delle vendite, lavora da 20 anni con la responsabilità commerciale dell'area adriatica da Modena a tutta la Puglia nel settore del trattamento delle acque. Ha avuto esperienze che lo hanno portato a conoscere diverse realtà. Prima per 8 anni come responsabile della produzione aziendale presso una multinazionale con filiale a Fano. Poi come titolare di un negozio di vendita di materiale per trattamento acque. Lucarelli è diplomato in ragioneria, frequentato due anni di università in ambito di comunicazione e studi di quinto livello specifici in programmazione neurolinguistica e marketing per l'idoneità da responsabile d'area nel settore vendite. Ha una passione coltivata fin dall'età di 8 anni per le attività di comunità. È stato attivo in associazioni di ogni livello sociale, dapprima come partecipante e poi come responsabile organizzativo. La prima esperienza, il più formativa in tal senso, fu nei gruppi scout per 8 anni, poi in vari ambiti, fino a qualche anno fa dove è stato raggiunto un obiettivo importante nel mettere insieme associazioni di quartiere nel dialogo e nella costruzione di attività per la città. Ho la tendenza a ragionare per schemi obiettivi, ha dichiarato, per cui le mie parole d'ordine sono concretezza e organizzazione. Sono appassionato e innamorato della città di Fano che oggi con orgoglio, responsabilità e passione amministro nel ruolo di assessore. Le deleghe sono quelle allo sviluppo turistico, grandi eventi, attività economiche e produttive e partecipazione. Samuele Mascarin, nato a Sasso Corvaro 44 anni fa, vive da sempre a Fano insieme alla compagna Elisa. Laureato con l'Ode in scienze politiche e amante della lettura e della musica. Appassionato di politica internazionale e di trekking, ama a viaggiare anche in modo avventuroso. La notte scrive testi umoristici e disegna fumetti. Dal 2012 lavora come progettista e coordinatore di attività e progetti sociali per Arci. Sin da giovanissimo si appassiona alla politica militando nella sinistra giovanile. Ad appena 21 anni la prima esperienza da amministratore, ricoprendo l'incarico di assessori ai servizi educativi e alle politiche giovanili del comune di Fano. Nel 2005 diventa responsabile nazionale degli studenti della sinistra giovanile, trasferendosi a Roma. Nel 2007 poi diventa organizzatore nazionale della sinistra giovanile e due anni dopo viene eletto al Consiglio Comunale di Fano nella lista di sinistra unita. Scenario che si ripete nel 2014. Successivamente viene nominato assessore ai servizi educativi, all'ambiente, alle biblioteche, alla trasparenza, alla partecipazione, all'innovazione tecnologica, alla pace, alla memoria e alla legalità. Nel 2018 è stato tra i fondatori dell'associazione Fano in Comune, mentre nell'anno successivo è stato nuovamente eletto in Consiglio Comunale, risultando il più votato di tutta la coalizione di centro-sinistra, eseguita la nomina ad assessore ai servizi educativi, alle biblioteche, alle società partecipate, ai rapporti con Ato e Ato, alla pace, alla memoria e alla legalità democratica. Queste sono le biografie. Ora iniziamo con le domande. Vi anticipo che, per garantire lo stesso spazio a ciascun candidato, abbiamo preparato un timer. Massimo, prego. Sì, sono veramente curricula che dimostrano la professionalità, la competenza di tutti i candidati che fanno parte della medesima coalizione. Ma per presentarli e per capire meglio le loro individualità, chiederei a loro, dato che fanno parte della medesima coalizione, e i lettori, il 7 aprile, domenica prossima, dovranno leggere un candidato. Che cosa vi distingue l'uno dall'altro? Qual è l'originalità con la quale voi programmate la prossima amministrazione comunale? Che cosa dunque vi identifica? Voi che fate parte della stessa coalizione, però nella propria individualità, nel proprio modo di vedere, i prossimi cinque anni della città di Frano. Due minuti di tempo a vostra disposizione, iniziamo da Cristian Fanesi. Sì, è difficile rispondere in questi tempi, ma mandare un messaggio così complicato in un contesto come questo. Certamente ho fatto un'esperienza amministrativa molto importante, sono vice sindaco, amministro questa città da qualche anno, lo faccio con piacere, lo faccio con competenza, e cerco di portare tutte le mie doti in questa cosa che faccio. Sono ingegnere, sono babbo di due figlie, magnifiche, e lavoro alla Slam Progetti, e quindi mi occupo di impianti di energia. Penso che Fano sia la città più bella dove vivere, e questo amore per la mia città cerco di tenerlo anche quando amministro questa nostra comunità. Io penso che Fano debba continuare ad essere la città migliore dove vivere, la città di Fano debba continuare a crescere, non crescere solo dal punto di vista economico, crescere anche dal punto di vista delle relazioni, dal punto di vista della coesione sociale, e dal punto di vista delle relazioni, quindi quello che stiamo pensando per Fano è creare un posto dove frazioni, quartieri, abbiano una propria community hub, abbiano un posto dove incontrarsi, dove stare insieme, e dove mettere in comune le esperienze. Questo è l'unico sistema che noi abbiamo, per creare una città più sicura, una città più accogliente, una città più coesa, dove tutti si sentono bene. In fondo la qualità della vita di ognuno di noi dipende dalla qualità della vita di tutti quanti. E quindi questo è quello che noi vorremmo fare in questa città, quello che vorrei fare in questa città, facendolo con competenza, con passione, con coraggio. La mia è una visione coraggiosa della città, perché questa città ha bisogno di visioni coraggiose. Mi spiace. Corrofattori. Non è facile presentarsi e spiegarsi, perché si rischia sempre di sembrare presuntuosi, quindi mi perdonerete. Però sono conscia dei miei punti di forza e di debolezza. Tra i punti di forza penso che ci sia la capacità di ragionare fuori dagli schemi. La frase che accompagna questa corsa, le primarie, c'è sempre una prima volta. E non riguarda tanto il fatto che io sia donna, quanto il fatto che ho avuto tante prime volte in questa città e non solo. La prima a capire la validità di una realtà come il co-working, la prima a portare una realtà come quella che è stata la manifestazione aria, e quindi di capire che ci poteva essere cultura, allo stesso tempo legare le realtà economiche, gli ordini professionali. e ho dato un'impronta molto personale e molto diversa dal solito anche agli assessorati ad ambiente e cultura che ho ricoperto in questo brevissimo anno. Sono assolutamente molto operativa, ma soprattutto rispettosa, e ascolto le persone. Sono molto rispettosa anche dei miei colleghi, ne conosco le qualità e i pregi, e penso che sia importante per chi si vuole candidare come guida della città, sapere che da soli non si fa nulla e saper valutare e qualificare al meglio la squadra che ti accompagna. Quindi, grande pragmaticità, un ragionare assolutamente fuori dagli schemi, l'avete visto sempre in tutte le cose che ho fatto, dalle più piccole alle più grandi, anche il nuovo modo di vedere il museo, il portare il progetto di efficientamento energetico dentro la città di Fano, il nuovo modo di interpretare l'ambiente, anticipando quello che in realtà l'Europa ci diceva da tempo. E quindi questo è il plus valore. In più, ho la fortuna di avere una famiglia con cui sono molto legata e ho la libertà, la libertà di poter tornare a una vita che mi piace, in cui sto bene, e quindi quello che faccio lo faccio assolutamente per passione. E te, Lucarelli? Qualcuno più famoso di me diceva se sbaglio mi correggerete, visto che insomma c'è un tempo che insomma viene scandito al secondo, insomma se vado oltre mi fermerete. Non era per fare una battuta d'inizio, ma di fatto ciò che mi contraddistingue è effettivamente la mia storia, ciò che sono, ciò per cui mi conoscete insomma nella città di Fano, una persona che da vent'anni ha rapporti sociali con tutti i quartieri e con il centro storico, che parte dall'ascolto delle persone, perché abbiamo bisogno di parlare insieme, abbiamo bisogno di capire le necessità, abbiamo bisogno di entrare nell'anima delle persone, perché a volte ci sono cose non dette che sono altrettanto importanti di quelle dette, quindi c'è bisogno di capire la società, il posto in cui viviamo, per cercare di capire come portare la città nel futuro. E poi c'è bisogno di professionalità, per questo molti non mi conoscono, per la mia professionalità, ciò che faccio di lavoro, che mi ha insegnato un metodo molto preciso, questo l'ho applicato anche nella possibilità che mi è stata data dal sindaco Massimo Seri in questi cinque anni, di portare avanti l'assessorato al turismo e le attività economiche, un metodo chiaro, quello di dialogare con le persone, di attivare professionalità per capire come crescere, come fare insieme un percorso verso il futuro, utilizzare queste professionalità, e portare a casa cose concrete, perché dall'ascolto poi bisogna mettere a terra le cose. Purtroppo devo dire che c'è un allontanamento dell'amministrazione pubblica, proprio perché la sensazione che diamo tutti i giorni è quella di non mettere a terra le necessità vere della città. Ecco, in questo io ho dimostrato che in un qualche modo c'è una capacità di poterlo fare, è per questo che mi presento alla città. Bene, riavviamo il timer per Samuele Mascarin. Insieme ai miei colleghi affronto questa sfida delle primarie del centro-sinistra con molto entusiasmo, anche molta determinazione, ma oltre a questi sentimenti porto con me ovviamente anche l'esperienza di un impegno amministrativo che in questi anni è stato grande e che si è concentrato ovviamente su alcuni ambiti, servizi educativi, biblioteche in particolare. Anni che hanno visto crescere questi servizi e diventare anche dell'eccellenza a livello nazionale. 20.000 iscritti al sistema bibliotecario, il nuovo progetto della Biblioteca Federiciana firmato da Mario Cucinella, piuttosto che la migliore rifezione d'Italia o i 13 milioni di interventi cantierizzati in questo momento per tre nuovi asili nido. 120 posti che aumenteranno del 40% la capacità di accoglienza dei servizi 0-3 nella nostra città. Ecco, a me piacerebbe nei prossimi anni pensare che tutto il Comune di Fano possa lavorare in questo modo, raggiungere obiettivi importanti e anche ambiziosi e credo che da questo punto di vista ci sia una capacità operativa e un pragmatismo da mettere a disposizione non solo dell'esperienza di governo ma anche della nostra comunità. In questo senso credo che le sfide che la nostra città ha di fronte siano grandi, portano con sé rischi e opportunità e serve una politica in grado anche con uno sguardo nuovo legato anche a un ricambio generazionale che serve alla politica fanese e non solo il centro-sinistra di poter affrontare queste sfide facendo in modo che la nostra città sia una città che procede insieme, unita, senza che nessuno rimanga escluso verso il futuro. E per questo serve una politica capace, una politica con esperienza, una politica che abbia anche il coraggio di prendere scelte e decisioni ogni giorno ascoltando la nostra città. Bene, abbiamo così individuato un po' le personalità dei candidati che si presentano per le primarie e allora cominciamo ad affrontare i problemi della città. Io vi propongo tre macro aree e quindi vi chiedo anche uno sforzo di sintesi particolare. Casa, lavoro, salute. Sono tre argomenti che in un certo senso si interconnettono perché dalla casa, dalla possibilità di abitare, dipende poi la sopravvivenza delle persone. Il lavoro vi dà la possibilità di andare avanti, la salute è una condizione essenziale. Ebbene, Fano però ancora ha dei problemi a questo riguardo. Siamo ancora in emergenza abitativa, il lavoro precario purtroppo esiste e poi per quanto riguarda la salute sappiamo quali sono le prestazioni sanitarie. Allora, senza entrare nei particolari, vi chiedo che cosa prevedete per i prossimi cinque anni per queste tre priorità programmatiche e come pensate soprattutto di incidere. Quindi vi prego di lasciare il passato ma di prevedere il futuro. Samuele, partiamo da lei. Tre minuti di tempo. Penso che il tema abitativo e quello occupazionale siano fortemente legati tra di loro e riguardano in particolare la fascia più giovane della nostra città. Io credo che Fano debba essere una città nella quale si ritorna, non dalla quale si parte e per fare questo serve una buona occupazione qualificata che richiede degli investimenti del sistema produttivo e anche del terziario che siano all'altezza dei cambiamenti anche tecnologici che in questi anni si stanno realizzando e che sempre più impatteranno sull'organizzazione del lavoro. Questo vuol dire riuscire a portare il lavoro qualificato nel nostro territorio. Questo significa di conseguenza anche una previsione urbanistica e infrastrutturale che sia all'altezza di quelle che sono le esigenze di investimenti di qualità di questo tipo. Parallelamente credo che serva un impegno dell'ente locale per calmirare la situazione abitativa. Oggi è molto difficile costruire una propria vita autonoma non solo dal punto di vista del reddito ma anche della autonomia abitativa. E questa è una città nella quale ci sono troppe case sfitte e affitti troppo alti. E questo è un problema soprattutto per i più giovani per le famiglie. In questo penso che l'ente locale investendo anche in servizi che rendano più facili alcune soluzioni nell'organizzazione dei tempi di vita di lavoro soprattutto delle famiglie più giovani possa e debba fare molto. E poi c'è un tema enorme che è quello della salute che è un diritto costituzionale. La nostra è una città che in questo momento è fortemente penalizzata dalle politiche regionali. 204 milioni per il nuovo ospedale di Pesaro 16 per Fano. È già sufficiente questo rapporto per individuare quanto in questo momento la destra che governa la Regione Marche stia penalizzando il Santa Croce a dispetto di tanta propaganda che la destra invece in questi anni ha portato avanti. Bene, serve al contrario riportare attività e funzioni specialistiche al Santa Croce serve sostenere le attività consultoriali che sono spesso al collasso e serve soprattutto una politica che sia in grado di difendere anche la dimensione pubblica della nostra sanità. È incredibile che si dia il via libero con posti di letto a una clinica privata a Pesaro e che quei posti in qualche modo magicamente scompaiono per la sanità pubblica della nostra città. Serve una politica nei prossimi anni che sia in grado con Pesaro con Ancone e con Roma di difendere gli interessi della nostra città e quando serve anche di battere qualche pugno sul tavolo perché la nostra è una città che non deve rispondere solo ai suoi 60.000 abitanti ma a un intero territorio e difendere gli interessi delle cittadine e dei cittadini di Fano vuol dire difendere gli interessi di un'intera provincia. Cristian Fanesi passiamo a lei. Sì, certamente il tema del lavoro è un tema tra i più delicati che dobbiamo affrontare con competenza e studiando bene qual è la nostra città abbiamo una città composta da un ecosistema di imprese medio-piccole molto importanti che danno tante soddisfazioni in una zona industriale come quella di Bellocchi tra le più grandi della regione Marche il tema quindi del lavoro è un tema centrale e dovrà svilupparlo bene il prossimo sindaco di Fano agevolando gli investimenti che si vorranno fare cercando di portare a Fano qualità del lavoro sicurezza e quanto serve per aumentare anche i redditi dei nostri concittadini l'ecosistema di imprese che abbiamo noi fanno parte ci sono tantissime imprese manufatturiere vera eccellenza di questa città la canteristica navale ha ripreso come dire un'attività economica molto importante è pieno di barche che cercano di arrivare al porto di Fano tutti i giorni e tutte le notti e in più c'è il settore dell'ingegneria vera eccellenza che solo noi abbiamo in questa regione e che attorno a grandi imprese che si sono sviluppate in questi anni ha creato un indotto molto importante il sistema dell'ingegneria legata soprattutto all'energia rappresenta veramente una possibilità da sviluppare ulteriormente per la città di Fano e ad esempio in questo l'amministrazione comunale deve aiutare anche le imprese a sedersi intorno al tavolo per creare anche occasioni di formazioni più qualificati e che servono veramente alla struttura economica di questa città ad esempio una formazione intermedia rappresentata dagli ITS tra il diploma e la laurea in maniera tale che le risposte che le nostre imprese cercano vengano trovate sul territorio dando lavoro qualificato e retribuito e ben retribuito ai nostri giovani questo è il tema centrale poi c'è il tema ovviamente della sanità e della salute perché qui il rischio di avere diciamo avendo eliminato l'azienda ospedaliera Marche Nord avere tolto a Fano l'unica possibilità di avere eccellenze sul territorio quello di cui sono molto preoccupato è che si tolgano professionalità a questa città che le professionalità che adesso ci sono all'ospedale Santa Croce a Fano possono decidere di non fermarsi qui e quindi uno dei temi principali è mantenere tecnologie e professionalità presso l'ospedale di Fano io credo che la sanità poi vada intesa anche come sistema che si crea intorno all'ospedale perché serve una struttura territoriale che dia risposte veloci senza andare ad come dire utilizzare l'ospedale quindi questi sono i temi in cui il sindaco di Fano o chiunque esso sia dovrà iniziare a porre delle questioni alla regione Marche facendo pesare il peso di 60.000 abitanti facendo pesare il peso della terza città delle Marche che ha un'entroterra composto dalla bassa valle del Metauro molto importante di cui tener conto stop ancora fattori beh casa, lavoro e sanità sono diciamo c'è un po' tutto dentro sul tema della casa abbiamo incontrato alcuni quartieri assieme ai miei colleghi in queste in queste settimane ed è emersa la necessità di ragionare bene su quella che è l'emergenza abitativa da un lato e quella che è un'emergenza urbanistica dall'altro perché abbiamo interi quartieri che a seguito di una pianificazione urbanistica non opportuna stanno peggiorando la loro qualità di vita e questa è una cosa assolutamente su cui intervenire su cui stiamo intervenendo ma ci vorrà più decisione e più capacità programmatica da quel punto di vista perché la qualità della vita deriva anche da questo ma la qualità della vita è importante anche sul tema del lavoro ricordiamoci che l'indotto economico principale di Fano quello che ha fatto veramente la differenza in questi anni assieme alla nautica assieme alle imprese manifatturiere che conosco bene perché la mia famiglia dai genitori ai miei nonni sono stati imprenditori di questa città è stata la presenza di Saipem e di tutto l'indotto che ha creato ora noi abbiamo una realtà come Saipem che con un indotto di aziende che lavorano a livello nazionale e internazionale sui temi che sono i principali a livello nazionale e internazionale e abbiamo ben quattro università che circondano Fano è un bel essere circondati diciamo quindi c'è Bologna Urbino Ancona e Camerino bene tutto questo può portare un grande sviluppo di lavoro di intelligenze e chiamare professionalità quando è venuto ad inaugurare l'ampliamento della nuova sede di Saipem l'amministratore delegato ha detto che Fano è la realtà tra Parigi Milano e Fano ricordiamoci che sono queste tre non è da poco che ha il maggior tasso di permanenza sul posto di lavoro e questo per un'impresa è un grandissimo valore aggiunto ora se noi riusciamo a rendere la nostra città più ospitale più vivibile e puntare su questo vediamo che facciamo il bene perché poi dopo abbiamo riusciamo ad attrarre del personale lavorativo di alta formazione con un buon potere di spesa cosa che torna utile alle imprese manifatturiere cosa importante per i negozi e per le tante attività anche di quartiere quindi è tutto un ecosistema come diceva il mio collega collegato e veniamo alla sanità la sanità è stata peggiorata mi dispiace avevamo i problemi prima perché non bisogna fare questioni di parte ma è stata assolutamente peggiorata e lo vediamo non basta creare le cattedrali nel deserto grandi strutture ma non pensare a come viene organizzata noi ancora non abbiamo un fascicolo elettronico e se viene detto il contrario andate in Emilia Romagna potete vedere che quello che noi abbiamo nelle Marche non è assolutamente un fascicolo elettronico e questo è sintomatico di come si può organizzare come si vuole organizzare la sanità veniamo poi Orca Paletta continueremo in un'altra occasione Ete Lucarelli Sì sono temi fondamentali per lo sviluppo della nostra città che di fatto toccano la dignità della persona perché sono da trattare in modo consono e consapevole Lavoro quando parliamo di lavoro parliamo di dignità sociale ogni persona merita un lavoro dignitoso perché significa far star bene la famiglia significa avere un'alta qualità della vita significa benessere il benessere è alla base per costruire ogni città del mondo quindi il benessere è il tema che un sindaco deve ricercare per la città di Fano per esserci un lavoro dignitoso ci deve essere ovviamente crescita economica ci devono essere aziende in salute ci devono essere persone qualificate che le fanno crescere perché poi le aziende sono fatte di persone servono progetti di infrastrutture per farle crescere ecco io penso che in questo momento la nostra città in questo periodo storico ha bisogno di creare delle progettualità insieme delle aziende io ho proposto un master plan ad esempio per capire quali sono i settori dell'economia fainese più trainanti stiamo investendo tanto nel turismo non basta il turismo non è il 100% del PIL della nostra città l'industria lo è altrettanto un settore molto importante va a capire quali settori dell'industria sono i più trainanti per la nostra economia bisogna capire come si sta muovendo l'artigianato altrettanto importante per dare identità nella nostra città e nei settori che crediamo trainanti dobbiamo investire per delle infrastrutture serie mi viene in mente abbiamo parlato del navale e ora che il navale abbia possibilità di far arrivare imbarcazioni in acqua senza dover attraversare ad esempio tutta la città quindi è chiaro che stiamo realizzando la strada delle barche è altrettanto chiaro che serve un progetto serio per aiutare questo settore parliamo di ingegneria senza le infrastrutture senza una rete che permette agli ingegneri di sviluppare dati e di trasferirli in giro per il mondo in modo pratico e veloce è ovvio che l'ingegneria tenderebbe a scegliere altre zone d'Italia che hanno questo tipo di infrastrutture come possiamo parlare di manifatturiero è chiaro che la nostra zona industriale è una banalità servano infrastrutture viabilità e serve ad esempio corrente elettrica perché se non abbiamo corrente elettrica sufficiente per mandare avanti la nostra industria è chiaro che non potremo pensare a uno sviluppo stesso della zona industriale l'artigianato vanno qualificate le aziende che promuovono il nostro medinfano le nostre identità ecco se noi pensiamo alla crescita economica aiutando le aziende le imprese da questo punto di vista saremo in grado anche di dare lavoro dignitoso e dobbiamo pensare anche agli inserimenti lavorativi delle persone più fragili ho finito il tempo mi sono accorto adesso parlerò più tardi di salute dell'emergenza abitativa che ovviamente tocca soprattutto i più giovani come ha detto il mio collega Sanmarino il mio collega Mascarin per il quale servono progettualità importanti Massimo prego sì la terza domanda volevo dedicarla a un tema unico che è quello della viabilità però declinato in tre aspetti innanzitutto quello del traffico di attraversamento che continua a passare a Fano sotto le mura cittadine quindi anche i collegamenti con gli altri centri i collegamenti con Pesaro eccetera il secondo aspetto quello della manutenzione delle strade sapete come le buche nell'asfalto sono uno dei problemi che maggiormente angusti ai cittadini magari vedono più questo aspetto piccolo che una grande infrastruttura la cura e la manutenzione è un aspetto che non solo questa giunta ma anche le altre giunte non dico che hanno trascurato perché questa giunta ha speso veramente milioni per intervenire sulle strade però ovviamente questo non basta l'altro aspetto è quello dei parcheggi i parcheggi ci sono sono sempre insufficienti e alla questione dei parcheggi collegato il problema della pedonalizzazione o meno del centro storico a voi la risposta sempre tre minuti a vostra disposizione e te lucarelli partiamo da lei allora viabilità tema fondamentale se vogliamo pensare allo sviluppo della città viabilità nord sud è chiaro che oggi con una possibile complanare che deve nascere a Fano Sud che l'abbiamo già progettata insieme ai comuni di Mondolfo e di San Costanzo e con economie che si paventano in arrivo abbiamo già avuto comunicazioni in tal senso si prefigura un nuovo assetto della viabilità molto importante per la città perché questo ci dà la possibilità di depotenziare la statale 16 creare una viabilità che è collegata all'assetto turistico della città perché soprattutto la zona di Fano Sud è una zona con possibilità di prevalenza di investimenti nel turismo e quindi diventa un asse importante viario per la nostra città che si collega all'attuale complanare e che deve vedere il termine dell'attuale complanare secondo me nello sfogo con il nuovo casellino che insomma ci sono già economie che deve essere realizzato nella zona di Fenile quindi così la città avrebbe un asse nord-sud completo che tramite il nuovo casellino fa sfogare la viabilità verso Pesaro non va tralasciato l'asse est-ovest perché sappiamo che la realizzazione della Fano Grosseto ma soprattutto per me fondamentale la riqualificazione anche dell'asse Fano-Gubbio è fondamentale noi abbiamo un rapporto sociale con Gubbio importantissimo e non va tralasciato quindi secondo me soltanto la realizzazione del collegamento Marche-Toscana non è sufficiente per il rapporto con l'entroterra asfalti questa giunta ha fatto 200 km di asfalti su 450 km se noi procediamo con un piano asfalti di questo tipo significa che ogni 20 anni avremo la riqualificazione totale di tutte le vie della città di Fano guardate che negli ultimi 40 anni questo non è accaduto quindi credo che un piano asfalti che proceda con questi investimenti che abbiamo realizzato nei prossimi anni determini una qualità delle strade accettabile per tutti e ovvio che le strade sono importantissime per tutti piano parcheggi alla città serve un piano parcheggi serio ed è la necessità che abbiamo per qualificare il commercio del centro storico per poter pedonalizzare il centro storico parcheggi che possiamo pensare ad esempio all'interno dell'ex caserma con Corafattori una battaglia che portiamo avanti ormai da a 5 anni qualcuno anche per me paventa delle possibili parcheggi ad esempio nella zona dell'ex colonia Inam che può essere una zona totalmente da riqualificare anche con RSA dove possono nascere anche dei parcheggi questo ci darebbe la possibilità di liberare il centro storico e di ripensare una vivibilità del centro storico occorre anche una cultura cittadina della sostenibilità perché sempre di più dobbiamo utilizzare le bici Samuele Mascherini Sicuramente c'è un tema grande che è quello di una riqualificazione complessiva della nostra rete stradale che però come è stato ricordato correttamente in questi anni ha visto investimenti molto importanti che hanno migliorato in maniera oggettiva la situazione è chiaro che un aspetto su cui bisognerà investire di più è la manutenzione ordinaria delle strade e al tempo stesso però immaginare anche che quando parliamo di viabilità non dobbiamo pensare solo ed esclusivamente a quella veicolare ma anche a quella che richiama la mobilità dolce noi abbiamo la necessità di collegare e ricucire da un certo punto di vista non solo urbanistico ma anche sociale molti nostri quartieri e per fare questo servono non solo strade ovviamente in sicurezza ma servono anche percorsi pedonali ciclopedonali e ciclabili che siano in grado di costruire anche una mobilità alternativa che possa anche alleviare insieme al trasporto pubblico quella che è la viabilità e i problemi legati alla viabilità interna poi c'è un tema strategico che è quello del traffico di attraversamento di Fano e da questo punto di vista sicuramente c'è il nodo strategico della complanare di Fano Sud ma c'è anche la necessità ineludibile quale che sia il tracciato di pensare a una soluzione strutturale di collegamento con la città di Pesaro perché buona parte del traffico di attraversamento è collegato comunque a questo asse e chiaramente una interquartieri ancora non conclusa è un tema che chi amministrerà la città nei prossimi anni non potrà eludere e infine un aspetto che è sicuramente importante è quello dei parcheggi perché i parcheggi non solo rispetto alla cintura del centro urbano ma anche di molti quartieri sta diventando un'esigenza e per certi aspetti un'emergenza c'è la necessità di immaginare spazi nuovi di parcheggio che siano in grado di garantire la regolarità anche di alcuni servizi all'interno di diverse parti della nostra città e bisogna avere anche una politica che prenda coraggio e decida di procedere in maniera chiara sul tema della padronalizzazione del centro storico o comunque di larghe aree del centro storico e per fare questo vuol dire anche fare degli investimenti che sono diciamo così di riflesso come quello ad esempio dei servizi di navetta per poter collegare a parcheggi esterni alla cittura urbana quello che è invece il centro storico e ovviamente tutti gli spazi e le attività che hanno bisogno di una forte presenza e che può essere anzi facilitata da una rivisitazione di un serio piano parcheggi Ancora qualche secondo sua disposizione se vuole altrimenti andiamo avanti passiamo a Cristian Fanisi In questi anni abbiamo avuto la fortuna di inaugurare diverse strade le opere compensative e il secondo tratto degli interquartieri molto utili importanti e per fare le strade ci vuole il coraggio e allora il coraggio bisogna metterlo anche pensando di pianificare un collegamento verso nord della città di Fano e qualunque amministrazione ci sarà dovrà porsi questo problema e Fano un collegamento verso nord è una grande possibilità per la città di Fano per liberare e rendere più sicura la statale 16 che dal diciamo da Porta Maggiore fino alla Gimarra è un problema evidente ed evidente a tutti ma poi c'è anche il tema del collegamento con Pesaro attraverso il nuovo casello autostradale casello che si dovrà fare in tempi rapidi ce lo farà società autostrade e l'abbiamo pensato monodirezionale da e per Pesaro in maniera tale da poter integrare quel sistema di viario che noi dobbiamo comunque realizzare verso nord e poi c'è il tema della complanare a Fano Sud un tema abbastanza concreto che noi pensiamo debba essere debba congiungere le opere compensative di Tombaccia fino al casello di Marotta questi sono gli impegni veri che ci dobbiamo prendere da qui a qualche anno poi c'è tutto il tema dei parcheggi effettivamente a Fano servono i parcheggi ma non servono parcheggi in centro per la gente che arriva servono parcheggi in centro per chi ci abita Fano negli ultimi anni ha avuto un sacco di persone nuove che sono andate ad abitare in centro sono stati recuperati molti vani e quindi il tema è quello di trovare parcheggi vicino al centro storico anche per i residenti certamente una soluzione potrà avvenire facendo un multipiano in zona Orti come abbiamo pianificato nel piano regolatore sfruttando al meglio il piano interrato della caserma Paolini che già c'è e quindi si potrà sfruttare per i parcheggi e poi realizzando come abbiamo pianificato nel piano regolatore una serie di parcheggi esterni scambiatori che serviranno anche per dare risposte a dei quartieri importanti come quelli diciamo fuori dalla cinta urbana questi sono i temi che dobbiamo porre certamente non trascurando la possibilità di fare piste ciclabili di farle complete utili alla gente in maniera tale che si possa utilizzare anche questo mezzo per spostarsi verso la zona industriale ma anche verso il centro questi sono i temi più importanti che il prossimo sindaco dovrà affrontare però io lo vorrei accennare perché uno dei temi che dovremo affrontare è anche lo spostamento della ferrovia adriatica come grande opportunità per la città di Fano opportunità da accogliere e che potrebbe servire per liberare un sedime molto importante presso vicino alla costa che passa sotto le mura malattestiane perché noi siamo per l'arretramento della ferrovia quindi spostare la ferrovia adriatica a monte a fare una nuova stazione e questo ci contraddistingue certamente dalla destra che in questo governo che in questo momento governa la regione Marche ancora fattori allora voglio cambiare un attimo il punto di vista bisogna prima di dire quello che vogliamo fare dovremo fare una cosa anticipata i numeri dobbiamo avere i dati e questa amministrazione ha fatto veramente tanto però una cosa su cui ho insistito sempre da prima di entrare in assessorato cioè l'ultimo anno è stata quella prendiamo i dati noi se dobbiamo fare una pianificazione dobbiamo conoscere bene il territorio dal punto di vista numerico altrimenti rischiamo di fare delle pianificazioni che poi dopo sono controproducenti ed è anche difficile poi spiegare alla città certe cose a questo uniamo una una complessità una visione complessa di quello che è il sistema trasporti noi abbiamo la parte parcheggi viabilità stradale viabilità ciclopedonale e viabilità ferroviaria che è un tutt'uno perché la persona si deve spostare e deve scegliere come spostarsi in base alle infrastrutture che ha e in base all'analisi dei flussi che non è un'analisi statica che faccio una volta ma dovrà essere un'analisi dinamica perché dalla prima analisi arrivano le prime infrastrutture e di seguito continuo ad analizzare per capire come proseguire questa mia programmazione ma questo è importantissimo altrimenti ci ritroveremo fra qualche anno a evidenziare sempre gli stessi problemi ora da una prima analisi vediamo che i parcheggi mancano mancano veramente sì a meno che noi non ci decidiamo fare le ciclabili ne abbiamo fatte tante ma abbiamo fatto gli spezzettamenti dentro i quartieri dobbiamo fare le dorsali principali questo avvicina i quartieri via Roma la Flaminia dorsali principali di collegamento una strada una ciclabile che porti a bellocchi la ciclabile lungo la costa lungo l'Adriatica che ricuci che possa ricucire anche tutto il discorso di Fano Sud queste sono le viabilità principali e sicuramente ma i dati dovranno aiutarci a capirlo si diminuirà quella che è la richiesta di parcheggi sia in centro storico che nei vari quartieri bene a questo noi dobbiamo aggiungere la manutenzione delle strade che sarà necessaria e anche lì bisogna partire sempre dalle dorsali principali e poi fare un piano strategico le dorsali principali si intende anche la strada verso Pesaro e lì dobbiamo veramente essere coraggiosi e ragionare su una strada verso Pesaro perché non è pensabile che la città di Fano abbia un unico collegamento se ci va in crisi il ponte dell'Arzilla noi abbiamo un serio problema di collegamento e il bypass e il casellino può servire fino a un certo punto noi dobbiamo avere una seconda strada arriviamo al tema anche dell'ex ferrovia Fan Urbino che è vergognosamente ferma e quella deve essere recuperata come viabilità ciclopedonale e sull'arretramento della ferrovia attenti a non essere stretti perché la ferrovia adriatica deve essere dismessa se arretriamo altrimenti è un problema noi ora ci fermiamo per qualche istante e poi ritorniamo in studio tra poco ben tornati a occhio al voto prima di procedere con le domande di Massimo Foghetti vi do qualche informazione sulle votazioni saranno dieci seggi che verranno allessiti per le primarie del centro-sinistra che si svolgeranno domenica prossima domenica 7 aprile dalle ore 8 alle ore 20 per chi abita in centro e in zona mare potrà recarsi a Palazzo Martinozzi in via Orco d'Augusto 80 a Gimarra si vota al centro civico di via Cena 14 al poderino all'ex seconda circoscrizione in via Redi Puglia numero 5 a San Lazzaro alla Sala Cubo nel centro commerciale a Sant'Orso al Circo Lanziani in via Sant'Eusebio 78 a Fenile alla Fondazione Cante di Montevecchio a Metauriglia al Circolo Albatros e ancora al centro sociale di Ponte Sasso al Club Anziani di Cucurano e al Circolo Anziani Cicogna di Bellocchi per votare è necessario presentare un documento di identità attestante la residenza nel comune di Fano e il certificato elettorale è richiesto un contributo di 2 euro ogni elettore può votare solo nel seggio che include la propria sezione elettorale oppure l'indirizzo di residenza prego Massimo sì ora parliamo di turismo e di cultura perché sono due elementi anche questi connessi l'un con l'altro e sono anche degli elementi che determinano poi anche un influsso economico nella città Fano per me ha una grande opportunità oltre ad essere una località balneare che attrae molto per questa sua caratteristica ai turisti ha la fortuna di essere anche una città d'arte e cultura è merito dell'attuale giunta soprattutto aver messo più a disponibilità i beni storici della città Fano Romana è una delle maggiori attrattive l'archeologia in questo momento ha un grande ascendente l'abbiamo visto anche nelle vacanze di Pasqua quanti italiani hanno visitato musei e gallerie però quello che è stato fatto io ritengo che non basti vediamo il museo della Flaminia è ridotto ai minimi termini gli scavi in via Vitruvio languano da molti mesi e sembra che per la difficoltà di lavorare nei sottoservizi venga così ovviata l'opportunità di sondare quello che si nasconde sotto via Vitruvio e poi le ricerche di Porta Maggiore sono state lasciate a metà i reperti venuti alla luce in piazza Andrea Costa verranno ricoperti con il rammarico credo di molti fanesi ebbene che cosa intendete fare continuerete di questo passo oppure cambierete la situazione in merito a questa attrattiva turistica che è fondamentale ed è connaturata alla città di Fano per questa risposta avete tre minuti a vostra disposizione partiamo da Corrafattori era una domanda ma era anche un'affermazione se vogliamo in realtà io non la vedo così nera anzi ricordiamo che gli scavi via Vitruvio se adesso sono fermi perché non sono sotto il nostro controllo ma quello della sovrintendenza che salutiamo e che rispettiamo molto come ente ma che ha preso una decisione ben precisa quella di attendere noi abbiamo anche contattato e siamo stati contattati da diverse emittenti televisive anche nazionali però c'è stato il diniego di proseguire perché stanno aspettando un colloquio con il ministero che noi stiamo sollecitando però non è sotto il nostro diretto controllo ma si va avanti dal punto di vista degli scavi di piazza Andrea Costa lì stiamo proseguendo sappiamo che verrà alla luce tanto altro l'alternativa è facciamo una piazza completamente aperta con tutti gli scavi o completamente vetrata capiamo che non è fattibile bisogna trovare un giusto compromesso per quanto riguarda l'accessibilità agli scavi della Fano Romana ricordiamo che dopo anni finalmente quest'anno c'è stato l'accordo con la Curia insieme anche alla collaborazione di Archeoclub per cui Archeoclub mantiene la possibilità delle sue visite che sono visite che danno un grandissimo valore aggiunto ma noi diamo una regolarità come Comune di Fano e questo è un grande successo allo stesso tempo abbiamo riqualificato il Museo del Palazzo Malatestiano non so se vi ricordate come era solo un anno fa se non ve lo ricordate perché i numeri erano molto bassi ma abbiamo le foto e finalmente è stato riqualificato sta diventando un luogo della cultura della città per la città ma anche per chi arriva da fuori ecco che si collega al turismo il turismo non è solo cultura è tanto tanto altro se vogliamo è proprio cultura perché cultura è quello che identifica una città e sarà importante per la prossima giunta ricordarsi questo l'assessorato alla cultura dovrà essere un assessorato sempre più forte sempre più valorizzato perché dice chi siamo e chi vogliamo essere e a volte questo ce lo scordiamo sul museo della Flaminia ci sono dei ragionamenti molto più complessi vanno fatti dei ragionamenti molto più complessi è stato un bel esperimento una bella una bella esperienza ma va rivisto e ripensato meglio aspettare un giorno di più un mese di più e se vogliamo anche un anno di più ma quando le cose si fanno si fanno bene per spendere al meglio i soldi dei cittadini nel frattempo siamo andati avanti e ci sarà tutto il tema dell'ex Finlanda sui quali abbiamo vinto sei migliori e mezzo e non solo tutto il tema della Flaminia e della rete dei musei della via Flaminia che sta dando grandissime soddisfazioni quindi si sta lavorando ma bisogna fare magari una cosa di meno ma quella che si fa la si fa con coscienza e fatta bene ancora qualche secondo glielo dico se non si può se vuole ancora qualche secondo bene a sua disposizione non è semplice ricordiamo anche il tema della sala Morganti in cui adesso è ospitato il Perugino la sala Morganti ha delle grandi criticità noi abbiamo ospitato una mostra che sta avendo grande successo sarà necessario ripensare tutto e anche quello spazio E te Lucarelli Allora io credo che in quest'ultimo periodo si è fatto tanto si sono realizzati tanti investimenti si è creata una strategia veramente seria ed importante per la città dal punto di vista della cultura e del turismo e qui bisogna cercare di dare continuità ai progetti realizzati vi faccio un esempio fino a qualche anno fa non si pensava neanche di presentare la città dal punto di vista della città di Vitruvio era difficile entrare nei luoghi della cultura oggi comunque li abbiamo aperti abbiamo investimenti importantissimi perché abbiamo già finanziato con dei fondi che vengono dal governo di fatto il museo dedicato a Vitruvio non basta perché abbiamo tanti altri luoghi come nuovi ritrovamenti dei quali secondo me dobbiamo entrare in possesso perché bisogna andare a approfondire e magari portare anche quelli alle evidenze della città e quindi qui però non ce la facciamo soltanto noi come amministrazione quindi il futuro sindaco dovrà essere pressante nei confronti del governo per far partire capire l'importanza di questi ritrovamenti abbiamo e stiamo realizzando un progetto riguardante il carnevale perché il carnevale deve essere 360 giorni all'anno e la fabbrica del carnevale servirà proprio per raccontare le nostre tradizioni abbiamo in essere un progetto che è l'Ecomuseo del mare che racconterà la nostra tradizione marinara ecco vedete che la visione che stiamo dando dal punto di vista culturale nel futuro è di riuscire a raccontare tutte le nostre identità la nostra storia il nostro carattere in Italia e nel mondo e dal punto di vista turistico abbiamo realizzato insieme al mondo economico insieme al tavolo economico un percorso partecipato veramente molto bello una serie di strategie che vanno di pari passo a questi investimenti se noi diamo continuità a questo processo riusciremo veramente domani ad essere pronti ad essere veramente alla città più bella delle marche quella che si racconta appieno per ciò che è un problema lo intravedo il problema sarà quello della gestione e delle aperture di tutti questi luoghi perché oggi bisogna dirlo la città con le proprie economie ha delle difficoltà ad aprire e mantenere tutti questi luoghi e io credo che qui ci venga in soccorso un percorso nato dall'Europa ormai anni fa ed è la sottoscrizione con gli stati membri d'Europa della Convenzione di Faro che è praticamente un nuovo modo di vedere la cultura e gestione dei beni monumentali e culturali non monumenti aperti e messi a disposizione del cittadino ma monumenti partecipati condivisi nella loro visione nelle loro aperture nelle progettualità che avvengono all'interno con la città quindi si potrebbe pensare a gestioni che interagiscono con la città e con le associazioni cittadine si potrebbe pensare a progettualità cioè noi abbiamo una serie di associazioni che dal punto di vista culturale con i loro eventi danno grande lustro alla città ecco insieme a loro si potrebbe pensare anche alla gestione degli spazi Samuele Mascherini ma turismo e cultura sono ovviamente fortemente legate tra di loro è chiaro che il turismo rappresenta anche un elemento di economia sana del nostro territorio non solo della città di Fano e necessariamente gli investimenti che in questi anni sono stati fatti anche per riqualificare il patrimonio pubblico sono stati immaginati in funzione nei prossimi anni di agevolare anche l'investimento dei privati per riqualificare le strutture ricettive del nostro territorio io penso che un progetto come il Waterfront sia come dire l'esempio paradigmatico di come in questo momento stiamo provando a immaginare la Fano turistica dei prossimi anni non solo in una logica di riqualificazione urbanistica ma anche di investimento perché come in tutti gli ambiti per un amministratore la cosa più importante è avere una visione sistemica di quello che bisogna fare e di come farlo e anche con quali interlocutori il tema dell'Europa sarà fondamentale lo è già oggi lo sarà ancora di più nei prossimi anni perché gran parte delle risorse verranno segnate non ai singoli comuni ma a quelle realtà tra gli enti locali che riusciranno tra loro a fare sistema anche a livello territoriale e io credo che Fano da questo punto di vista abbia già messo in campo delle buone sperimentazioni poi c'è il tema ovviamente di una valorizzazione anche ma non solo a fini turistici della nostra identità e lo dico al plurale perché questa è una città romana una città medievale è una città adriatica con una proiezione storica sul mare all'incontro con le altre culture con gli altri popoli e gli interventi che sono stati anche citati la fabbrica del carnevale l'ecomuseo del mare piuttosto che ovviamente la meraviglia di Vitruvio piuttosto del teatro romano sono dei tasselli di un mosaico che va composto in maniera sapiente prendo come esempio il sistema bibliotecario ancora una volta la mediateca non solo ha decubicato le proprie presenze i propri accessi 120.000 all'anno 20.000 iscritti in una città di 60.000 perché? perché siamo riusciti a trasformare quello spazio di cultura che è oggi il principale incubatore di attività culturali nella nostra città in una seconda ideale piazza in cui anche se non prendi mano un libro tu vai a vivere e a costruire la tua socialità e le tue relazioni e se pensiamo che questo modello possa essere rafforzato e valorizzato dalla nuova biblioteca federiciana beh si può capire qual è il senso della sfida che vogliamo porre a Fano tutta la nostra comunità nei prossimi anni quella cioè di essere un punto di riferimento è un attrattore a livello europeo in competizione non con le città vicine ma con le grandi capitali europee e pensate che da questo punto di vista un elemento emblematico è che il nuovo progetto della biblioteca federiciana di Mario Cucinella ha avuto in termini di risorse europee il massimo riconoscimento a livello nazionale davanti alle proposte di Roma e delle aree metropolitane della nostra città abbiamo finito il tempo a disposizione chiudiamo questo ciclo con Cristian Fanisi Fano è una città meravigliosa e lo sanno tutti e le conferme ci arrivano appunto scavando questa città la piccola esperienza che ho fatto come assessore a lavori pubblici quando abbiamo riqualificato il Pincio ci ha dimostrato come scavando appena superficialmente la nostra città si trovano tesori nascosti che sono stati nascosti per tanto tempo il Pincio ad esempio fu la prima esperienza di esplorazione di un cantiere archeologico aperta alle scuole ai cittadini adesso lo stiamo facendo con tanti altri luoghi come ad esempio Piazza Andrea Costa e come abbiamo fatto con la Basilica del Vitruvio allora se sarò sindaco noi ci impegniamo a acquistare il palazzo l'edificio al di sotto del quale sorge probabilmente la Basilica del Vitruvio e fanno bisogno a scavarla per trovare conferme e continuare a trovare conferme allora bisogna scavare Piazza Veduti per cercare conferme se la Basilica di Vitruvio lì si trova bisogna cercare lì ma non solo bisogna fare in modo di appunto creare un indotto sul brand Fano Città di Vitruvio che porti anche turisti il tema di Fano è sicuramente un impegno che ci prendiamo è quello di aumentare i posti letto dobbiamo aumentare i posti letto dobbiamo aumentare i posti letto di qualità nel piano regolatore abbiamo inserito diverse aree che possono rappresentare diciamo una prospettiva di sviluppo turistico soprattutto a sud del Metauro perché lì arrivano le principali presenze della città di Fano Torrette Ponte Sasso ma anche Metauriglia avendo protetto la costa ci può essere uno sviluppo turistico anche per il quartiere di Metauriglia e questa è una prospettiva che noi dobbiamo esplorare portare turisti vuol dire portare ricchezza portare ricchezza vuol dire far crescere continuare a far crescere la città di Fano questo è secondo me un impegno che tutti quanti ci dobbiamo prendere e poi c'è un tema che forse non è stato trattato ma che è importantissimo quello dello sviluppo delle terme di Carignano anche dal punto di vista turistico lì sono previsti alberghi importanti anche Cinque Stelle strutture che possono ridare vita al turismo di Fano e quindi io credo che un impegno che ci dovremmo prendere tutti insieme al di là dei colori politici è quello di far sviluppare davvero quelle terme perché può rappresentare come dire una svolta anche dal punto di vista turistico per la città di Fano e questo è sicuramente un impegno che ci prendiamo e ci prendiamo tutti assieme Massimo Fughetti sì per concludere una domanda più specifica tante sono state in consiglio comunale le discussioni sull'iniziativa pubblica e l'iniziativa privata quasi che fossero poste in contraddizione in competizione però intanto Pesaro in maniera meno idealista ma più pragmatica ci ha battuto nel realizzare la clinica privata con la realistica poi possibilità di assorbire quei posti letto che erano assegnati alla città di Fano ebbene avete parlato prima di una grande attenzione data all'economia privata alla zona industriale eccetera esiste ancora nella prossima tornata amministrativa secondo voi la contrapposizione tra iniziativa pubblica e iniziativa privata oppure si cambia registro si cerca un po' di così essere meno idealisti e più pragmatici così come ha fatto Pesaro avete due minuti di tempo in questo caso inizia Cristian Fanilzi certamente occorre agevolare tutti gli investimenti privati che portano qualità del lavoro portano qualità dello sviluppo portano anche la creazione ad esempio di alberghi in questa città questo è sicuro sul tema sanitario in maniera molto chiara noi siamo per la sanità pubblica la sanità privata è un'integrazione alla sanità pubblica che resta la struttura sulla quale noi dobbiamo basare le nostre politiche quindi non guardo non vedo come dire come un nemico la sanità privata solo se integra l'offerta della sanità pubblica deve essere di qualità eccellente e deve essere rivolta a tutti in par diciamo con le stesse possibilità di accesso in tutto questo c'è un tema che è quello che ho citato prima che sono le terme di Carignano per agevolare quell'investimento non vedrei male la possibilità di poter realizzare da su una clinica privata perché può essere il motore di uno sviluppo di un settore molto importante e su questo bisogna essere pragmatici agevolare anche quell'investimento ma il punto centrale è mantenere professionalità per quanto riguarda la sanità presso l'ospedale Santa Croce di Fano su questo dobbiamo essere molto chiari perché su questo si gioca veramente una partita molto importante dobbiamo mantenere professionalità tecnologie pubbliche investimenti pubblici su un settore quello della sanità che colpisce tutti e coinvolge tutti quindi quello che io mi aspetto è che si mantenga in questa città una sanità pubblica di eccellenza e di una qualità che comunque permette di salvare la vita a tante persone in questo Fano però deve tornare a fare politiche sovracomunali e sovraterritoriali perché Fano deve sempre dover dimostrare di essere la terza città delle Marche abbiamo come dire il difetto di non essere capoluogo di provincia abbiamo la necessità di dialogare con il nostro leggevo che c'è era partito quello da tre ma in realtà abbiamo ancora la necessità di creare e coinvolgere anche la bassa valle del Metauro perché Fano debba essere importante a livello regionale diamo dieci secondi a testa nel caso in cui ne veste bisogno allora proseguiamo con fattori prego il tema del rapporto pubblico privato deve essere vista a seconda della della sua contestualizzazione bene se parliamo di sanità il rapporto tra pubblico privato e qui sposo le parole del mio collega Fanesi deve essere visto come prioritaria la sanità pubblica una sanità che deve guardare a un intero territorio e la sanità privata può essere un punto importante per il territorio come pensiamo appunto alle terme di Carignano ma la sanità pubblica deve essere sempre un passo avanti proprio per garantire un servizio eco e una pari dignità anche a chi non se lo può permettere ma il rapporto pubblico privato all'interno di un'amministrazione arriva su tanti settori io posso parlare della mia esperienza di quest'anno dopo due mesi che ero in assessorato sono andata a Confindustria mi hanno detto sono dieci anni che non vediamo un assessore di Fano una cosa un po' particolare direi bene è iniziata una collaborazione non solo con loro ma con altre imprese a beneficio della città e a beneficio della comunità ascoltando quelli che sono state delle indicazioni interessanti poi è sempre l'amministrazione a decidere perché l'amministrazione deve garantire tutti soprattutto il più debole però ascoltare chi ha una pragmaticità una storicità importante può essere d'aiuto ecco che abbiamo che ci hanno aiutato nella mostra del Perugino ecco che abbiamo iniziato sempre con il Perugino una collaborazione con le aziende che vengono a visitare la nostra mostra assieme ai loro dipendenti quindi ci può essere una collaborazione pubblico privato l'amministrazione ha sempre il ruolo di guidare e di amministrare un territorio ma bisogna ascoltare tutti anche le imprese anche il privato anche le associazioni di categoria Luca Regli ma guardate io non ho mai visto male la possibile collaborazione con i privati ma c'è un tema fondamentale che oggi purtroppo a Fano sembra non vengono concessi neanche i posti di sanità pubblica che sono essenziali prima di tutto occorre tutelare la sanità pubblica e il sindaco della terza città delle Marche di una delle città più importanti delle Marche e diciamo del nostro territorio una città che ha un rapporto vero con la vallata del Metauro e del Cesano sociale infrastrutturale rapporti che altre vallate non hanno deve pesare per quello che è non a caso oggi l'ospedale il pronto soccorso Santa Croce fa più accessi rispetto al pronto soccorso di Pesaro perché ci sono più persone c'è maggiore necessità in questo territorio per cui occorre prima di tutto salvaguardare il Santa Croce e la sanità pubblica e quando oggi siamo nelle condizioni un sindaco di Fano viene messo nelle condizioni di non sapere neanche se i posti letto previsti e promessi addirittura all'interno di un consiglio comunale verranno confermati a Fano ma si viene a sapere che ci sono deliberi in atto o atti che confermano 80 posti per una clinica privata a Pesaro significa che qui serve una politica forte non solo della città di Fano ma di tutto il territorio verso la regione per far capire che questo territorio merita rispetto poi sulla sanità non dobbiamo raccontarci favole non possiamo creare ospedali ovunque perché altrimenti diciamo oppure facciamo il piano sanitario dei sogni come succede adesso in regione dove diciamo che deve nascere un ospedale a Cagli una Pergone una Fossombrone una Fano una Pesaro e poi non abbiamo medici non abbiamo professionalità anzi quelle professionalità che abbiamo oggi siccome che capiscono che tutto questo è realizzabile cercano di capire dove possono andare in altri lidi dove magari le loro professionalità sono tutelate quindi dobbiamo fare un piano serio sulla sanità non dobbiamo più raccontare le favole ai cittadini per fini elettorali ad esempio io penso che nel Santa Croce una bella collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche pensando a assi specialistici e a ricerca nel Santa Croce possa essere il futuro del Santa Croce quindi penso che lì ci si possa lavorare Mascherina anche lei diamo 10 secondi in più se vuole allora rispetto al rapporto pubblico privato giustamente come mi ha ricordato dipende sempre dal contesto in questo senso io credo in questi anni con la Mediateca Montanari piuttosto che con la nuova Biblioteca Federiciana aver rappresentato a beneficio della città che ci possono essere collaborazioni virtuose e proficue tra pubblico e privato poi ovviamente c'è un tema delicatissimo e strategico come quello sulla sanità rispetto al quale non ci possono essere tentenamenti la priorità è la sanità pubblica non possiamo immaginare di avviarci come in parte sta invece avvenendo in tutto il paese ma in particolare in questo territorio a un sistema nel quale chi ha i soldi si cura chi non ha i soldi non si cura è inaccettabile perché la salute è un diritto costituzionale in questo senso ritornare sul tema del rafforzamento del Santa Croce non vuol dire semplicemente concentrarsi su un contenitore vuol dire concentrarsi su quelli che sono invece i contenuti la capacità di rispondere ai bisogni della nostra città della nostra comunità anche oltre i confini comunali perché siamo punto di riferimento per un intero territorio da questo punto di vista io credo che insomma è un po' benevola la rappresentazione di una politica peserese più pragmatica semplicemente a Pesero si è deciso di fare una clinica privata perché le forze politiche che a Fano hanno sempre votato contro la clinica privata a Pesero hanno votato a favore ma queste sono contraddizioni che non riguardano noi che abbiamo sempre difeso invece la sanità pubblica e oggi non possiamo immaginare che nel silenzio della Regione Marche in questo momento si attribuiscono posti letto a strutture private e non ci sia nessun atto che assegna i posti pubblici che spettano al Santa Croce su questo noi dobbiamo assolutamente fare chiarezza e sarebbe anche bene che il candidato a sindaco della destra lo facesse perché il suo silenzio in questo momento è assordante Mascherin torno da lei per un appello al voto qual è la sua richiesta o il suo messaggio per i cittadini? Il primo messaggio è quello di partecipare perché le primarie sono una scelta di democrazia è la scelta che abbiamo fatto insieme di rimettere l'individuazione della candidata del candidato migliore per affrontare le prossime elezioni amministrative nelle mani di migliaia di cittadini e cittadini e non nelle mani di poche persone di qualche gruppo di potere e in questo caso l'invito è ovviamente a partecipare a fare una scelta e io mi auguro ovviamente una scelta che vi possa premiare perché qui c'è necessità in questa città di una politica forte autorevole competente con esperienza e però anche con l'energia e lo sguardo nuovo di una generazione nuova in grado di accompagnare Fano ad affrontare e a vincere le sfide del futuro Cristian Fanesi il suo appello al voto anche io sostengo che bisogna andare a votare si può andare a votare il 7 aprile possono andare tutti a votare e io credo che se andranno tante persone a votare chi vincerà le primarie del centro-sinistra che sono primarie vere dove siamo in competizione e dove ognuno di noi vuole vincere ma chiunque vincerà le primarie del 7 aprile poi certamente sarà sindaco di Fano quindi ho bisogno del sostegno di tante persone ve lo chiedo e vi chiedo il 7 aprile di barrare il nome Fanesi nella scheda elettorale che troverete ai nostri seggi presso le primarie appunto del centro-sinistra grazie vi chiedo di andare a votare le primarie del 7 aprile è molto importante perché anche se le primarie sono state tanto criticate in realtà è un momento di grande ognone di un gruppo che è coeso ognuno con le sue peculiarità personalmente arrivo senza nessuno alle spalle ma con tante persone che hanno creduto in me che stanno credendo in me si può fare datemi fiducia credete in questa possibilità democratica siamo un gruppo forte e chiunque vincerà appoggerà gli altri e questo è molto importante quindi vi invito assolutamente a venire il 7 aprile a esprimere la vostra preferenza siate liberi ed esprimete la vostra libertà Lucarelli suo appello al voto uso una frase che ho utilizzato al primo incontro quando ho detto che non siamo uno contro l'altro ma siamo uno insieme all'altro di fatto siamo persone che rappresentano le diverse sensibilità del centro-sinistra e come funziona nel centro-sinistra abbiamo deciso di mettere nelle mani dei cittadini di scegliere quale mondo dei nostri quale personalità può rappresentare il meglio del centro-sinistra chi viene da esperienze politiche più marcate chi viene da esperienze sociali più marcate e tante altre caratteristiche ecco personalmente ho la principale caratteristica è quella che ho presentato prima di rapporto con la città il gruppo civico ha cercato di accorciare le distanze tra pubblica amministrazione e cittadini di ascoltare di essere pragmatici se credete che questo possa rappresentare il meglio del centro-sinistra insomma sapete andate soprattutto a votare alle primarie possono votare tutti non sono le primarie dei partiti e non sono le primarie degli assessori siamo candidati che rappresentano i nostri mondi andate a votare e se volete votate per il sottoscritto e noi chiudiamo qua la puntata vorrei ringraziare intanto gli ospiti Cristian Fanesi del Partito Democratico Corafattori di Più Europa lista Civica F Etienne Lucarelli di Noi Civiche Fano Samuele Mascarin di Fano in Comune e poi un grazie al giornalista Massimo Fughetti grazie Massimo Occhio al voto torna lunedì prossimo 8 aprile dopo il telegiornale Occhio alla Notizia vi anticipo che saranno nostri ospiti Luca Serfilippi candidato sindaco della coalizione di centrodestra per Fano e Stefano Marcheggiani candidato sindaco della coalizione progressisti per Fano 2050 e in più la persona che vincerà le primarie sempre che non si vada al ballottaggio io vi ringrazio per averci seguito per aver seguito Occhio al voto e poi ci riaggiorniamo nei prossimi giorni come sempre grazie e buona serata a tutti